L'EMA definisce, certifica questo tipo di vaccino, quindi noi dobbiamo, sicuramente questa è veramente l'arma vera nei confronti di questo virus. Il 28 dicembre arriveranno in Friuli Venezia Giulia le prime 10.000 dosi di vaccino Pfizer delle oltre 50.000 assegnate alla regione. Il vaccino la cui somministrazione chiaramente è su base volontaria sarà dunque l'arma che finalmente verrà utilizzata contro il virus. Importante rimane il fatto che l'adesione da parte dei cittadini debba essere massima. Guardando in prospettiva in regione sono stati individuati circa 40.000 persone tra OS, medici e infermieri destinatari delle prime vaccinazioni. Noi dobbiamo avere fiducia dei nostri esperti, della nostra scienza, dei nostri ricercatori, dei nostri professionisti. Questo paese deve cominciare a avere un po' più di fiducia nei confronti di chi lavora, di chi studia su questo ed essere un po' meno, secondo me... Cerco di dirla nel modo più equilibrato, ma insomma non possiamo pensare di sapere tutto. Dobbiamo affidarci ai nostri professionisti e avere fiducia in loro. Poi un passaggio anche sulla variante inglese del coronavirus, più contagiosa ma non più letale. Adesso gli esperti stanno misurando questa possibile variante, io mi limito a quelle che sono le prime risposte. Quindi una velocità più forte ma una capacità invasiva che non altera le condizioni del virus. Sicuramente la velocità è un effetto pericoloso, delicato. Chi ritorna all'Inghilterra deve fare le sue quarantene o deve nelle 72 ore successive al rientro in Italia comunicare ai dipartimenti di prevenzione la propria presenza e deve sottoporsi ad un tampone perché è chiaro che questi sono i principi che sono definiti dall'ordinanza del Ministro della Salute che vanno rispettati in tutto il paese.